Io sono veramente stremato perché al di là dei rumori c'è proprio la sensazione di uscire e di rischiare. Una notte di sabato finita nel sangue, sparso tra il portico della Chiesa dei Servi e la Galleria Tito Livio. Giovani bevuti, o peggio, che litigano, rompono bottiglie e le prime gocce di sangue sono a terra, nel portico e alla base delle colonne della Chiesa. Poi spunta un coltello. I primi metri di Galleria Tito Livio dove ci troviamo adesso sono tracciati da molte macchie di sangue che tra l'altro nessuno ha pulito da sabato sera perché pare che qui alla fine sia successa la parte più grave di questa rissa, ovvero il fatto che qualcuno ci ha rimesso una coltellata a una gamba e un altro giovane è stato visto con una ferita da taglio sulla testa. è intervenuta la polizia per sedare gli animi e non ha potuto che fermare i due feriti perché ovviamente tutti gli altri se la sono data a gambi. Ci ha voluto un fatto di sangue per attirare di nuovo l'attenzione su una situazione nella quale, per esempio, gli schiamazzi e le risse durano fino a molto tardi, da anni. E continuano a ripetersi perché non c'è niente, nessuno che ferma e blocca questa situazione. I residenti ormai sono esasperati perché, come capita in tante altre parti della città, questi fenomeni avvengono soprattutto in fascia serale, ma lo spaccio avviene anche in pieno giorno. Sono delle baby gang che affollano la chiesa dei servi nella fascia serale e notturna e anche la galleria Tito Livio e anche la riviera Tito Livio. L'accoltellamento durante questa rissa segnala che ci sono persone che girano col coltello e in ogni momento possono aggredire altre persone.